Viva mia! Ma vai, vai! Lo sai che tutto intorno a noi è energia. Come è un tuo membro? Chi sei? Che cosa vuoi? Ho conosciuto una ragazza. C'hai scappato? Ti presento a Minato. La prossima volta che vai a Minato, nasconditi meglio. Non ha niente a che vedere con noi. Non arriva Renzo a questa magnifica compagnia. Tu non sei la mamma mia. Perché a te piace la mamma mia. Fuori da! Schifo, ma sai? Tornano da piccola, squalli da piccadino. Tutto finisce. Ed è quello che non finisce. Prima o poi ci si stufa. Grazie!